Buongiorno da Edo, non ho più l'acqua, vado a prenderla. Bisogna rimanere idratati perché sennò poi la bocca si secca, poi si allappa e non riesco più a parlare. Allora, abbiamo un nuovo take nel sceneggiato delle persone ricchissime della industry che parlano di lavoro e soprattutto in questo caso di AI generativa. E questo arriva dal presidente di Take 2. Volevo fare la battuta tra nuovo take e Take 2, ma ho fatto passare troppe parole tra una cosa e l'altra, quindi non viene. Comunque, questa roba è vera, ho il presidente di Take 2, Take 2 è un'azienda publisher di videogiochi, ma gigantesca. Cioè, per farvi capire, è l'azienda che pubblica i giochi di Rockstar Games e Rockstar Games sono quelli di GTA, Grand Theft Auto. Se non sapete cos'è Grand Theft Auto, non so in che mondo state vivendo, comunque GTA è praticamente il gioco che vende più del pane. Qualche gioco vende di più, ma GTA, diciamo che come volume, come fatturato, come volume di vendita, è in cima a tutte le classifiche di sempre e tra l'altro sta per uscire la sesta versione di questo gioco, quindi arriveranno milionate anche a questo giro a Take 2. Ma insomma, questo giusto per farvi del contesto, il presidente di Take 2 si chiama Strauss Zelnik e ha parlato di AI generativa. Ha detto che l'idea che l'IA generativa toglierà un sacco di posti di lavoro, eliminerà un sacco di posti di lavoro, è la cosa più stupida che abbia mai sentito. Dice che parla con molti lavoratori nel San Francisco, nella Silicon Valley, ecco, molti lavoratori, ma anche molti sea level, che sono molto preoccupati dal fatto che appunto l'IA generativa toglierà un sacco di posti di lavoro. Parentesi, li sta già togliendo, abbiamo visto molti lay-off in alcuni settori specifici di aziende che dichiaratamente sono sostituiti da IA. Ma va bene, il punto delle dichiarazioni di Zelnik è che nella storia delle evoluzioni di software, hardware, nell'industria, ecco, tutte le volte che abbiamo introdotto qualcosa di automatizzato, che abbiamo sostituito lavori in presidenza fatti da persone, queste persone poi hanno semplicemente cambiato lavoro, cambiato mansione, e anzi si sono innalzate in posti di lavoro più intellettualmente stimolanti e più adatti alle proprie capacità. Ha fatto l'esempio di call center indiani utilizzati per rispondere alle chat automatiche sui siti, che ora sono invece rimpiazzati da IA, ecco, dicendo che quelle persone lavoravano nei call center, adesso invece, siccome hanno una alta educazione, adesso fanno altro. Ma insomma, questo è un po' il punto di vista, ripeto, di qualcuno che sta sedendo su una montagna di Dobloni, no? E devo dire che probabilmente nel lungo periodo, in una visione di lungo termine della storia della industria o dell'umanità, per fare ancora di più gli aulici, potrei anche condividere questa visione, no? Perché vedendo che la storia è fatta di progressi anche tecnologici e che le condizioni dei lavoratori sono sempre migliori, guardando sempre il lungo periodo, no? Questa cosa potrebbe naturalmente essere vera, potrei condividerla. Il problema è che quando arrivano delle rivoluzioni nell'industria e quando ci sono dei grossi cambiamenti, ecco, nell'immediato, quindi se andiamo a vedere il micro invece del macro, le persone soffrono, perché i cambiamenti portano sofferenze. Ci sono stati vari momenti nella storia dell'industria in cui cambiamenti grossi hanno portato a sofferenze di persone che hanno perso il lavoro, non sono riuscite a ritrovarlo, grosse crisi sociali dovuti a questo tipo di cambiamenti. Quindi, senza voler sminuire la visione di un uomo che sicuramente ha una migliore conoscenza del mercato rispetto a me, ecco, io direi, siamo d'accordo che nel lungo periodo queste cose sono positive e porteranno a un innalzamento della qualità di molti lavori e quindi della necessità di trovare persone più qualificate per svolgere altri tipi di lavori, perché quelli magari meno qualificati saranno sostituiti da una IA, però dobbiamo constatare che nel micro, nel breve periodo, questi cambiamenti portano ad alcune persone, a molte persone, come stiamo vedendo, della sofferenza, della necessità di adattarsi a qualcosa che è difficile da ricevere. Perché facciamo presto a dire chi non sa adattarsi poi rimarrà indietro, quindi bisogna essere in grado di... Sì, ma l'adattarsi spesso è dovuto anche a questioni di contesto che non dipendono da noi. In certe situazioni ci sono delle persone che non possono semplicemente cambiare la vita intorno a loro, la loro occupazione, la loro città, dove vivono, con chi vivono, cosa fanno. Spesso molte persone non hanno queste possibilità, non è vero che tutti hanno la possibilità di adattarsi ai cambiamenti del mondo del lavoro, della società. Insomma, pippone soltanto per rendervi edotti delle parole di Strauss Zelnick e anche un po' di qualcosa che penso io, perché questa è la parte editoriale, no? Tempo giornissimo. Vabbè, ve l'ho buttata lì anche oggi, spero con un pochino più di sintesi, non so quanti minuti sono riusciti a farlo, ma basta parlare, andiamo dritti alle news di oggi, con anche un aggiornamento sulla roba di ieri, così dovete collegare gli episodi. Da qualche giorno c'è una notizia che sta facendo molto parlare online e che riguarda Google, quindi andiamo a vedere che è successo, lo faccio grazie a D-Day. Dice questo articolo, sono emersi 2500 documenti interni di Google che mostrano il funzionamento del suo motore di ricerca. Ed è vero, peraltro sono emersi perché sono stati accidentalmente pubblicati su GitHub, a quanto pare, perché qualcuno prima che venissero riarchiviati è riuscito a prenderli e poi li ha fatti trapelare. Insomma, questo è un po' il retroscena. Comunque, in questi documenti vengono descritti alcuni dei parametri che la ricerca di Google utilizza per incrementare o no la visibilità di un contenuto, di una pagina web, di un sito. Alcuni di questi parametri sono in contrasto con ciò che Google aveva detto in precedenza, quindi stiamo vedendo un po' il funzionamento interno di Google, cioè almeno una parte, perché questi documenti poi in realtà sono le API reference, quindi la documentazione tecnica dell'API. Soprattutto Google ha poi confermato che i documenti sono veri. Questa è una dichiarazione, una nota di Google. Vorremmo mettere in guardia dal fare supposizioni imprecise sulla ricerca, basate su informazioni decontestualizzate, obsolete o incomplete. Qui Google naturalmente sta dicendo non vi diciamo questa API a quando risale, quindi a che versione risale, e non vi diciamo qual è la versione invece attualmente in produzione. Quindi non sapete quali sono le differenze tra la versione che state leggendo e quella che è attualmente in produzione. Quindi potrebbe essere totalmente diversa, potrebbe essere la stessa, eccetera. Proseguo con l'articolo. Il contenuto dei documenti è stato riportato da Rand Fishkin, che per anni ha lavorato nell'ambito della ottimizzazione dei risultati su Google, che li ha ricevuti da una fonte anonima. Questa fonte ha poi deciso di uscire allo scoperto. È Erfan Azimi, fondatore di EA Eagle Digital, che è una società specializzata nel migliorare il posizionamento della ricerca di Google, dei contenuti online. In nessun caso, riporta l'articolo in grassetto, in nessun caso è possibile sapere se quanto riferiscono i documenti sia ancora valido o che modifiche siano state eventualmente implementate. Vabbè, quello che dicevo prima. Fra i parametri che Google sembra considerare, ci sono per esempio i dati che riguardano il browser Chrome, nonostante la società in presidenza abbia negato di usare i dati di Chrome ai fini del posizionamento nella ricerca. Allo stesso modo, sebbene più volte Google abbia riferito che non usa il campo dell'autore come elemento per il posizionamento della ricerca, dai documenti invece emerge che la società raccoglie questo campo e lo riconosce, poi lo usa. Nei documenti inoltre viene spiegato come Google classifica i siti in vista di elezioni oppure per situazioni straordinarie come è stata la pandemia. Andiamo un po' più nel tecnico. C'è un articolo di Ars Tecnica proprio di ieri. Allora qui riparte un po' dicendo che Google proprio ha liccato, ha fatto liccare accidentalmente questi documenti postandoli, per sbaglio apparentemente o comunque aprendo il repo su GitHub. E ci sono un po' di commenti proprio da Rand Fishkin e un altro esperto di SEO che è Mike King. Tra l'altro la cosa curiosa ci riporta Ars Tecnica è che questi documenti che sono appunto la Google API che contengono queste informazioni tecniche riservate interne sono state rilasciate tecnicamente sotto Apache 2.0, la licenza Apache 2.0. Questo significa che se voi li prendete, chiunque li prenda, ecco, ma anche semplicemente ci capiti sopra, poi li può utilizzare come vuole, per sempre li può utilizzare, riutilizzare senza dover pagare niente a Google. E infatti, eccoli qua, ci sono diversi siti dove si possono andare a consultare, questo per esempio, su xdocs, qualcuno ha pubblicato, insomma, l'API reference, cercando un po' di metterlo in una forma consultabile. Quindi questa è l'API reference e vabbè, naturalmente è molto grande, quindi le analisi sono in corso per vedere un po' se ci sono delle cose frizzanti. Comunque qualcosa è già emerso, no? Questa, naturalmente, essendo l'API reference, è una cosa che è stata scritta da programmatori per altri programmatori di Google, quindi senza avere il contesto di cosa sta succedendo a livello di business requirement, ovviamente è anche difficile capire esattamente cosa faccia un endpoint, un'API, insomma, questo è. D-Cers Technica, questo lì, che contiene un sacco di documentazioni di API per l'oggetto Google Content Warehouse, che sembra assolutamente proprio il Search Index. King, quell'esperto di SEO, scrive che ci sono 2.596 moduli rappresentati in questa documentazione API con 14.014 attributes. Ora, sono numeri che ci dicono, insomma, semplicemente che l'API è molto grande. Poi, entrambi, Fishkin e King, accusano Google di aver mentito agli esperti di SEO e alla industria nel passato, perché una delle rivelazioni, per esempio, nei documenti, è che i click, quindi il rate di click su una pagina, su un documento, in realtà è pesato, è considerato nel risultato, nel calcolare il posizionamento della pagina sulla ricerca, e questa roba Google l'ha sempre negata in passato. E questo sistema che traccia i link e porta in su un risultato, è chiamato Navboost. Oltre poi al fatto che i documenti suggeriscono che Google abbia una whitelist che va a boostare certi siti web, in particolare occasioni, ne abbiamo anche detto prima, come il fatto delle elezioni e delle pandemie, ecco, ci sono degli attributi come Is Election Authority e Is Covid Local Authority. Tra l'altro, i siti hanno anche un attributo Site Authority, che li fa innalzare, insomma, li fa innalzare nel rank per autori, insomma, che sono considerati molto validi. Gli autori stessi hanno il loro ranking, ma naturalmente non è ben spiegato, è impossibile capire come queste cose interagiscono tra di loro. Ne hanno scritto naturalmente tutti, ne ha scritto anche The Verges, in cui ci sono degli altri findings, delle altre scoperte. Vieni fuori come abbiamo accennato, che Google utilizza i dati di Chrome, proprio nel search ranking. Ora, degli rappresentanti di Google Search avevano detto in passato che loro non usano niente da Chrome, ma in realtà questi documenti suggeriscono che questa roba non è vera o potrebbe non essere vera. C'è una sezione, per esempio, che cita i Chrome TransClicks, che sono un'informazione che dovrebbe servire per mostrare i link principali, ecco, sotto un risultato di ricerca. Fiskin interpreta questo dato dicendo che Google usa il numero di click sulle pagine all'interno delle navigazioni di Chrome e lo usa per determinare quali sono quelli più importanti poi da mostrare sotto i siti. I cosiddetti site links, no? Naturalmente prendendo come riferimento tutta la navigazione dell'utente, non solo i click sulla pagina di ricerca. E poi, come abbiamo detto, anche gli autori di certe pagine sono pesati di più, quindi pagine appartenenti a certi personaggi considerati più autorevoli galleggiano più in alto nei risultati. Insomma, conclude poi Fiskin con la dichiarazione e dice che i giornalisti, da questo punto in avanti, i giornalisti e i publisher, quando riportano informazioni che riguardano la SEO dette proprio da Google dovrebbero smettere di ripetere senza pensiero critico quello che Google sta dicendo ma capire che Google in realtà sta combattendo una battaglia contro la SEO perché l'obiettivo delle ottimizzazioni è proprio quello di battere l'algoritmo e cercare di scalare il contenuto eludendo i principi che guidano invece le scelte di Google, no? quindi in realtà SEO e Google sono avversari e quindi non bisogna pensare che Google dia ai suoi avversari delle informazioni significative su come funziona internamente. Naturalmente qui siamo soltanto all'inizio probabilmente verrà fuori qualcos'altro in futuro intanto insomma ci becchiamo queste informazioni e anche questo fatto strano che Google così apparentemente per errore dopo aver fatto tra l'altro altri errori di cui non abbiamo parlato ma che hanno causato dei danni a business in cloud ma insomma ha pubblicato così per sbaglio dei documenti interni molto preziosi riservati su GitHub facendo sì che poi la gente li prendesse e li commentasse vabbè, eh Google Allora torniamo sulla vicenda di cui abbiamo parlato ieri come era di Snowflake apparentemente il data breach di Snowflake dico apparentemente perché adesso Snowflake sta combattendo una dura battaglia per proteggere la propria autorevolezza e negare che tutti questi breach quelli a Santander e Ticketmaster per esempio siano dovuti a debolezze dei propri sistemi o a configurazioni errate insomma vulnerabilità della propria infrastruttura e prendo un articolo di The Stack uscito ieri che parla di come Snowflake abbia chiesto a due grosse compagnie della cyber security che sono CrowdStrike e Mandiant di confermare in realtà la sua posizione quello che lei sostiene cioè che il problema sia dovuto a configurazioni errate dei clienti di Snowflake e non di Snowflake stessa e contestualmente Snowflake che ricordo essere una cloud storage data platform data engineering ecco e peraltro ottengo questo dato interessante che potrebbe essere interessante che ha dichiarato una revenue per il primo quarter di quest'anno di 790 milioni la scorsa settimana un'informazione che vi butto lì per farvi capire un po' anche la dimensione di questa azienda comunque ha fatto causa a Hudson Rock che vi ricorderete da ieri è il blog di cyber security la compagnia di cyber security che ha parlato con il cyber criminale che ha fatto questo bridge a Snowflake mettendo puntando il dito facendo luce su vulnerabilità su debolezze dell'infrastruttura ecco ora Hudson Rock ha dovuto tirare giù quel blog post che poi ieri abbiamo un po' analizzato di fronte alle minacce dello studio legale proprio di Snowflake la quale ribadisce che è stato compromesso l'account di un ex dipendente ma soltanto un demo account è stato acceduto quindi non c'è stato nessun accesso a sistemi corporate e Mandiant e CrowdStrike hanno fatto uno statement condiviso dove hanno scritto che non abbiamo prove non abbiamo evidenze che suggeriscono che queste attività malevoli naturalmente quella della data ex filtration siano state causate da una vulnerabilità o da una configurazione errata o un breach della piattaforma di Snowflake non ci sono evidenze che suggeriscono che l'attività è stata causata da credenziali compromesse di dipendenti attuali o ex proprio di Snowflake che questa pare essere una campagna targhettizzata diretta a utenti che hanno l'autenticazione single factor quindi non la multifactor e infine che come parte di questa campagna gli attaccanti hanno sfruttato credenziali precedentemente comprate o ottenute attraverso info stealing quindi malware che vanno a fare vanno a rubare credenziali insomma Snowflake sta cercando di tirarsi indietro e di addossare tutta la colpa ai propri clienti peraltro è particolare anche che nello stesso momento un sacco di clienti di Snowflake abbiano avuto questi problemi tutti insieme certo possiamo pensare anche che qualcuno sia riuscito a rubare un pacchetto di dati contenente credenziali di accesso di vari utenti che sono utenti di Snowflake e quindi sta cercando di fare questi breach tutti insieme in questo momento però comunque contestualmente Snowflake ha anche avvisato i suoi utenti di abilitare subito la multifactor e peraltro sappiamo questo possiamo anche non considerarlo una misconfiguration quindi una configurazione errata ma soltanto una cattiva pratica che il multifactor non è abilitato di default e non è possibile fare enforcing dell'autenticazione di multifactor su certi ruoli quindi gli utenti di Snowflake devono essere sufficientemente esperti mettiamola così da sapere che la multifactor deve essere un requisito base di qualunque accesso online e come scrive The Register Snowflake è una posizione estremamente delicata perché da una parte non vuole far pensare che i propri server siano compromessi insomma siano vulnerabili a un livello così base dall'altra parte però sta dicendo ai propri utenti di abilitare immediatamente la multifactor authentication e poi di cercare informazioni di cercare evidenze che suggeriscano compromissioni dei propri account tra l'altro è intervenuto anche il ricercatore di server security Kevin Beaumont che abbiamo già citato nel caso di Windows Recall poi vi darò anche un link di Beaumont nella sezione links più avanti insomma Beaumont ha scritto a proposito di questa vicenda che ha sentito numerosi utenti di Snowflake che sono stati colpiti in realtà da furti di dati dice ho parlato con persone in molte industrie di grosse corporation che hanno avuto furti di dati significativi in maggio proprio attraverso Snowflake peraltro è interessante notare continua The Register che Shiny Hunter che è quel criminale che ha messo in vendita i dati sul dark web ha detto a databreaches.net che il report di Hudson Rock era incorretto era non corretto perché ho tradotto incorrect era scorretto Shiny Hunter ha detto che la parte che riguardava ServiceNow di cui avevamo parlato è totalmente inventata se l'ha inventata qualcuno di Hudson Rock però dice che è vero che abbiamo chiesto a Snowflake di mandarci 20 milioni di dollari quindi riferendoci proprio all'estorsione fatta a Snowflake quindi quello che sappiamo finora è che ci sono un po' di clienti di Snowflake che sono sotto attacco che sono quantomeno bersaglio di possibili attacchi attraverso phishing oppure dati rubati o comperati insomma credenziali di accesso comprati e quindi assicurarsi che tutti questi accessi siano protetti quanto meno dalla multifactor authentication è la priorità dovrebbe essere la priorità sia di Snowflake che di tutti i loro clienti e come suggerisce anche proprio Kevin Beaumont nei prossimi mesi vedremo probabilmente altri utenti di Snowflake con i loro dati in giro per il dark web chiudo con altre parole scritte proprio da Kevin Beaumont dice comunque mi dispiace a livello umano per Snowflake perché loro sono in una brutta situazione questo potrebbe essere un evento che segna potrebbe anche segnare la fine della loro attività commerciale la fine del loro business quindi devono cercare di puntare di puntare il dito contro altri devono cercare ogni leva possibile per togliersi questa responsabilità e per addossarla ai propri clienti che magari sono stati negligenti nei confronti dell'attività di questo utente Rapeflake questo utente che poi ha acceduto ai sistemi per evitarsi la propria responsabilità e comunque chiude sempre Beaumont effettivamente parte di tutto questo è responsabilità di alcuni clienti allora i due link di oggi il primo è Hotwire HTML over the wire con questa GIF che ricorda un po' gli anni 90 scrollo giù se non mi viene l'epilessia Hotwire è un approccio scritto da quelli di 37 Signals cioè quelli di Basecamp Hey insomma DHH che hanno scritto questo articolo con una serie di tool che comprendono Turbo Stimulus Strada che in pratica concorrono a questo approccio del inviare da server a client HTML insomma HTML pezzi di HTML non JSON che poi deve essere interpretato e renderizzato ma HTML già renderizzato che è un approccio se vi ricordate ne abbiamo parlato anche quando abbiamo visto HTMLX ecco è un po' lo stesso approccio quando devi andare a aggiornare un pezzo della pagina il server ti manda direttamente l'HTML il pezzetto di HTML che puoi ottimizzare magari facendotelo mandare via stream utilizzando i socket insomma è una serie di ottimizzazioni che puoi fare e questo approccio è utilizzato proprio anche da Hotwire questo sito che trovate su hotwire.dev di cui vi lascio il link ed è sponsorizzato da quelli di 3D7Signas quindi ve lo lascio dateci un'occhiata comunque mi sembra un pattern che sta prendendo abbastanza piede in generale quindi conoscerlo non fa male e in più vi lascio questo link proprio di Kevin Beaumont come dicevo che però ritorna su Recall sulla feature di Windows Recall se non vi ricordate cos'è Windows Recall vi ribeccate alla puntata di qualche giorno fa in cui ne ho parlato questo blog post si intitola Stealing Everything You've Ever Typed or Viewed quindi rubare tutto quello che avevi mai scritto o guardato sui PC Windows ora è possibile con due righe di codice ecco il disastro di Copilot più Recall e in questo post come dice il titolo Beaumont va a spulciare tutti i possibili flows come si dice tutte le vulnerabilità di questo tool Microsoft di Recall e lo fa facendo praticamente un Q&A con se stesso molto carino cioè si fa delle domande che qualcuno potrebbe fare sull'efficacia sulla potenza sulla vulnerabilità di questa feature e si dà delle risposte che quindi ci fanno capire quanto possa essere effettivamente pericoloso questo approccio e quanta è la responsabilità di Microsoft nell'aver creato questo approccio e nell'averlo reso attivo di default su tutti i futuri PC Copilot Plus è secondo me molto interessante per capire ancora meglio come funziona Recall ma soprattutto quali sono i danni potenziali che questa roba potrebbe causare a tutti quelli che installeranno i futuri Windows sui PC Copilot Plus e non sapendo che lo possono disabilitare se lo troveranno abilitato di default magari senza mai usarlo esponendo quindi un sacco di dati dannosissimi ai criminali che avranno l'accesso al loro PC insomma vi consiglio di leggerlo vi lascio il link nella descrizione di questo episodio ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi peraltro inizialmente c'è abbastanza caldo quindi le ascelle sono già in sofferenza domani dovrebbe esserci buongiorno ma non ne sono sicuro perché poi devo finire di preparare un talk verso l'ora di pranzo avrò un talk online sulla cyber security a un evento che si chiama Developer Week Europe ma insomma è online sulla registrazione quindi fa lo stesso se non ci vediamo e poi devo finire di preparare anche il talk per sabato insomma una settimana impegnativa però magari ci vediamo magari ci vedremo anche in altri momenti sempre sul mio canale YouTube quindi seguitelo proprio al di là del podcast grazie di nuovo alla prossima ciao